Se ne vedremo ancora altre, troviamo stranamente quella che sembrerebbe la raggiestesia. Quindi se prendete il testo scritto da Schulz a un certo punto parlerà dell'induzione tramite il pendolo e anche i testi che poi ovviamente si riferiscono a quello originale, gli esercizi minori, quelli somatici, parleranno del pendolo raggiestesico. Non so se c'è qualche raggiestesista, purtroppo devo deluderlo, dimostrando che la raggiestesia e i movimenti sono movimenti inconsci ma voluti dal raggiestesista. Quindi casomai usa la raggiestesia per confutare la raggiestesia. Anzi, non solo lo usa come esercizio ma per dimostrare che in realtà tutto quello che è mentale si trasferisce poi a livello fisico, in questo caso muscolare. Ecco perché c'è l'esercizio del pendolo. Il raggiestesista con un codice binario che è sì e no, che può essere sì se si muove normalmente così e no se si muove dall'altra parte oppure orario e anti-orario e afferma che il pendolo non lo muove lui. Io ho visto dei testi che fanno proprio così con la mano, porca miseria, di profumo che non lo deve muovere lui perché se lo muovesse, no, poi cominciano sempre con l'incenso in chiesa, no, con il turribulo. Per ora affermano che tutto avviene perché il pendolo risponde a delle energie, invece lui dimostra che qualsiasi persona se tu gli poni delle domande a un certo punto, una volta che hai deciso a priori, perché in realtà si potrei anche decidere che il no è ad esempio perpendicolare, basta che decido il codice, viene da sé che noi occidentali facciamo sì così, ci sono certi posti che per dire sì fanno il contrario, non è in tutte le culture che si muove il capo per dire sì e quindi in quelle altre culture sarà diverso. Una volta che tu hai questo codice mentale è ovvio che questo si muove in maniera tale, ma sono dei micromovimenti che tu senza rendertene conto, per alcuni sono solo micromovimenti che riescono, quindi lui dice è un esperimento interessante perché ti rendi conto che la mente è in grado comunque, se volete il corpo è asservito dalla mente e quindi sai benissimo che se tu pensi di farlo girare in senso orario a un certo punto cercando di tenere fermo come in questo momento in realtà sembra che io non sto muovendo assolutamente nessuna parte del corpo, chiaro se mi metto a fare così è ovvio, quindi a un certo punto decido di farlo girare al contrario e quindi e incomincia girare al contrario, eppure sono sicuro di non muovere assolutamente, invece no, muovo, sono dei micromovimenti, poi magari non è così perché adesso cercando di confutare, confutando Schulz perché ci sono casi nel quale si prende il pendolo e lo si aggancia a un oggetto, io lo aggancio all'oggetto e adesso qua non posso e poi gli dico il pendolo, gira a destra, ma io mi allontano un metro e dove cavola è il micromovimento? e c'è gente che lo fa, cioè sì io lo aggancio, invece c'è un treppiedi, lo agganciano così e poi si allontanano, si mettono lì contro il muro con le mani così, e il pendolo si mette a gira a destra, poi gira a sinistra, poi dice sì, poi dice no, e Schulz è andato a farsi benedire, certo, adesso non ne parliamo questa sera, ma ho partecipato a un convegno un mese fa, c'è andato su Youtube, Valerio Sanfo, psicobiofisica Marco Todeschini, candidato al primo anno per la fisica, spiega che non è vero, perché se io fisso un oggetto e sono in grado di discriminare al contrario, posso muovere qualsiasi oggetto, anzi se non riesco vuol dire che non sono capace di usare il senso della vista, tra l'altro, un'affermazione di un fisico, cioè se io non riesco a muoverlo, vuol dire che non ho capito che io posso, la vista è fatta più in uscita, anzi in uscita non in ingresso, quindi non è una macchina fotografica, l'occhio è come una macchina fotografica, l'occhio è come un proiettore, è un proiettore, è totalmente diverso, quindi volendo deve farsi benedire il Schulz, però è anche vero che è così, sì io non me ne rendo conto, ma sicuramente cerco di tenere fermissimo comunque la mano e quando decido che deve girare in senso orario, dopo un po' quello si mette a girare in senso orario. Questo per Schulz è una dimostrazione dove io attraverso un codice mentale trasferisco a livello poi fisiologico e muscolare l'informazione e lo dimostro perché quando penserò che deve ruotare in senso antiorario e dei micromovimenti, i micromovimenti incominceranno ad attuarsi e questo muoverà in senso antiorario, quindi avete capito, non è che lo usa per dimostrare che attraverso la mente noi agiamo sulla parte fisica, nel contempo ovviamente Confuta quindi nega la radioestesia, dicendo questo la radioestesia che dice che invece c'è l'energia che fa ruotare il pendolo e quindi vengono usati, quindi in alcune sedute viene insegnato al soggetto attraverso un pendolo, che poi il pendolo è qualsiasi grave appesa un filo, non c'è bisogno, se qualcuno prende una castagna, la lega e ha il pendolo, voglio dire qualsiasi cosa, è un pendolo, dimostra questa relazione, quindi fa parte degli esercizi di verifica. Quindi dimostra che il pensiero gisce sul Soma e il sunto della prova del pendolo, che in tutte le persone ci sono reazioni che sfuggono al controllo, tipo appunto questa, questa è un'altra dimostrazione, Schulz, pagina 265, per ricordarci che stiamo parlando di Schulz, che non invento nulla, pagina 265, quindi quando io in realtà comincio, sapete, poi nella radiestesia, ognuno ha la lunghezza del pendolo, quindi perché in realtà la prima cosa che si fa, si deve trovare alla propria distanza, e quindi suggono al controllo perché io sono sicuro di tenere fermo e che invece in questo momento sto facendo dei movimenti. perché tali reazioni si svolgono in maniera inconsapevole, non mi rendo conto che, io ripeto, ho visto degli energestesisti che poi fanno, porca miseria, dico, per fortuna che deve essere impercettibile, certo che si muovono la mano, è sicuro che fanno qualsiasi cosa, quindi userà la radiestesia per dimostrare il pensiero sul corpo, sulla parte fisica. Ci sono reazioni che sfuggono al controllo, che poi sono quelle, so, uno è agitato e la minzione deve andare in bagno perché pensare che c'è andato dieci minuti prima, eppure sente il bisogno di svuotare la vescica, non riesce a capire che invece è una reazione psicologica dello stato di tensione. Grazie.